Cosa vediamo oggi? Oggi andiamo a riprendere un po' quello che abbiamo visto l'altra volta sull'interruttore, vediamo un interruttore semplice, vediamo un dimmer e vedremo una tapparella, quindi gli automatismi dal più semplice, leggermente complicato, estremamente non complicato ma estremamente pieno di nodi, perché ogni gruppo interessato rappresenterà un nodo di ultimate che noi andremo ad utilizzare. Quindi oggi cosa facciamo? Vediamo innanzitutto il nostro nodo inject che abbiamo visto l'altro giorno che serve per creare un telegramma, per generare un telegramma. Andiamo a creare un telegramma, l'altra volta abbiamo visto un timestamp, oggi andiamo a creare un telegramma che invece manda un valore booleano, quindi un valore logico che può essere o vero o falso. Ne creiamo uno che manderà il valore vero, ne creiamo un altro che manderà il valore falso. nome la chiamiamo luce off in questo caso, mentre invece il true lo chiameremo luce on. e gli diamo invio. Questo che cosa sono? Questi sono esattamente i due interruttori come se li avesse fisicamente in campo. Dopodiché vado a cercarmi il mio nodo di KNX ultimate, il mio KNX device e vado a configurarlo. Come lo configuro? Il mio gateway di casa che abbiamo visto l'altro giorno, quindi andiamo a rivedere la configurazione velocemente, gli do un nominativo che lo identifica, gli do un indirizzo IP, la porta 3671 di default, l'interfaccia di rete è quella generica. Cosa succede? Se l'ultimate riconosce da solo se stiamo di fronte a un'interfaccia IP oppure a un IP router, in base a che cosa? Se l'indirizzo di multicast, il 224.0.23.12 o 223.0.24, non mi ricordo mai, comunque se è 223 o 224, lui sa che è un indirizzo di multicast e quindi un IP router. Diversamente noi metteremo l'indirizzo di IP locale dell'interfaccia LAN e lui si collegherà utilizzando il tunnel. Dopodiché gli devo dare l'indirizzo di gruppo. L'indirizzo di gruppo della luce dove mi trovo adesso, scusatemi non me la ricordo, mi sembra che fossero l'1 e l'2 esatto, è 001, 001, data point, data point per lo switch è on off e l'1 e gli do questo, nome, luce, marco e gli do il done, senza configurare nient'altro, qui abbiamo delle opzioni che andiamo a vedere dopo, dopo le andremo a vedere, ma in questo momento non ci servono. Dopodiché vado a prendere il mio miglior amico, il mio nodo di debug, perché? Perché io voglio essere sicuro che quello che io ho fatto alla fine mi venga fuori come messaggio nella mia area di debug. Fatto tutto quanto, collego tutto, l'interruttore va dentro l'on e dentro l'off, il mio true è falso, perché ho mandato vero e falso? Perché KNX Ultimate supporta il famoso message, il payload del messaggio come true o falso per poi mandare il comando direttamente al gruppo. Andiamo a vedere nella pratica che cosa ho fatto. Ho configurato il mio flusso, ho i pallini blu, per cui vuol dire che questo nodo non è ancora attivato perché è cambiata la configurazione, vado a fare il deploy. Vado a fare il deploy, si connette il mio indicatore di stato, mi dice che è connesso al bus di KNX, gli do luce on, vedo che cosa succede, mi dice che l'ha mandato, gli do luce off, non lo vedete ma in effetti mi ha spento la luce. Ma che cosa succede? Io non ho qua il telegramma completo come ho visto l'altro giorno. Perché? Perché KNX Ultimate, se faccio doppio clic e lo vado ad editare, richiede delle opzioni. Quindi che cosa vuol dire? Vedete soprattutto in questi casi, sono questi tre gli switch che ci serviranno e con i quali dovremmo prestare attenzione di configurare correttamente, soprattutto quando andiamo a richiedere gli stati. Perché? Perché questo nodo reagisce all'evento write ed è giusto perché noi nel momento in cui andiamo a dargli un true o un false di accensione o spegnimento della luce, noi andiamo a scrivere un telegramma sul gruppo. Ma lui deve reagire alla risposta e deve reagire eventualmente anche alla lettura. Se io abilito la risposta e rifaccio il deploy, se tutto va come dico io, dovrebbe... non mi manda il telegramma perché... sapevo. Allora, fatemi vedere, forse devo dare anche il read, non mi manda il telegramma intero. Vediamo. Ah no, ma che stupido! Scusate, scusate, ho sbagliato io. Il debug mi mandava soltanto il payload, quindi soltanto la parte contenente il messaggio. Io invece voglio tutto il messaggio completo. Sembrava strana sta cosa qua, infatti probabilmente non serve neanche abilitare il... Eccolo qua, il mio messaggio completo. Questo è tutto il mio messaggio completo. Quindi ho il mio payload true e falso che identifica un on oppure un off. Questo era il nostro switch interruttore per accendere e spegnere. Andiamo a vedere adesso come possiamo leggere lo stato, come possiamo ricevere il telegramma del suo stato e in che maniera possiamo andarlo a leggere forzatamente, nel senso andiamo a richiedere lo stato. Andiamo a prendere sempre il nostro device. Nel mio caso, doppio clic per la configurazione, il gateway è sempre questo, il gruppo di stato è 002. Ah, me l'ha dato adesso. DPT sempre 1, perché comunque non so se ha lo stato o questo, ma tanto comunque state. Posso dargli un 11 se volessi, ma è uguale. Gli do il mio done. Collego al mio debug. Cancello questo. Che cosa succede? Succede che quando io spengo la luce, ho due messaggi. Uno viene dal gruppo 001, che è il telegramma di scrittura. L'altro è lo stato che mi risponde. E mi dice che la luce è stata spenta. Poi che cosa succede? Succede che io magari voglio sapere questa luce in che stato è. E quindi, per esempio, se ho ipotizzato uno stato di supervisione, io devo sapere se la luce è accesa oppure è spenta. Qui introduciamo una parte nuova. Una caratteristica del nodo. Per richiedere lo stato al nodo, noi dobbiamo usare un messaggio particolare. Cioè il nostro MSG deve restituire una chiave che si chiama readStatus. e questa readStatus deve essere messa a true. Qui non ce l'abbiamo. Per cui dobbiamo andarla a generare noi. Utilizziamo il nodeInject per generare il telegramma. A questo punto però il nodeInject non crea la chiave readStatus. Perché il nodeInject crea soltanto la chiave payload. Allora cosa facciamo? Ci giriamo intorno al problema. Noi creiamo un nodeInject che ci serve per generare un telegramma. Dopodiché possiamo prendere un nodo Change. Il nodo Change che cosa fa? Prende il messaggio e cambia, arricchisce, sostituisce, cancella, toglie eccetera eccetera. Fa una serie di operazioni sulle chiave di messaggio. Noi prendiamo Set. Quindi voglio dire imposto, posso cambiare, posso cancellare o posso muovere. Io imposto Message readStatus. La imposto a valore Buneano, valore logico, true. E gli do OK. Quindi che cosa succede? Collego questo su questo. Collego il mio timestamp al mio readStatus. Ma non è finita. Perché? Perché come avevo detto prima il KNX Ultimate va configurato per rispondere ai messaggi. In questo caso, di default, lui reagisce soltanto all'evento di scrittura write. Io gli devo dare la reazione al response e al read. Così facendo, io sono sicuro che mandando un messaggio di richiesta di stato, lui mi risponda. Andiamo a vedere, chiudiamo, cancelliamo questo così non ci confondiamo. Mando il mio timestamp e lui mi risponde. Che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto due messaggi. Il primo messaggio, scusate, il secondo messaggio, questo qua, è quello che mi interessa. È quello che mantiene il payload. Perché? Perché il primo messaggio che io ho trasferito è il mio telegramma di richiesta di messaggio. Tant'è vero che 11.250 è in questo caso il source ID del tunnel che sto impiegando. Mentre invece quello che interessa a me è il source 111, è l'attuatore di questa luce, con destinazione 002, che è il mio gruppo di stato, ha risposto che è spenta. Che è falso. Perché? Quando mi serve questa situazione qua? Quando io devo forzare l'aggiornamento dello stato. Perché io il telegramma di stato ce l'ho quando mando il comando. Per cui mi manda il comando e mi risponde lo stato. Ma se io voglio interrogarlo per essere sicuro dello stato di quel dispositivo, perché per un motivo qualsiasi posso essermi perso un telegramma, allora a questo punto io devo essere in grado di poterlo forzare, poterglielo richiedere. Questo è quello che mi permette di fare questa operazione. Vi aggiungo un nodo, il nodo commento. Il nodo commento è un nodo utile, molto utile, per identificare che non fa niente, non ha ingresso e non ha uscita. È un'etichetta. Serve semplicemente per aggiungere un commento che sia graficamente visibile all'interno del nostro flusso. In questo caso, per esempio, come commento, metto interruttore KNX. Così io so che tutta questa parte qua è il mio interruttore KNX. Seleziono tutto il mio flusso, lo sposto qui in alto, lo posso posizionare meglio, a seconda qua, poi anche qui a livello grafico dovete essere come di voi. Questo è un flusso che lavora sia in questa maniera che se io metto questo qui, questo qui, lo sposto di qua. Funziona lo stesso perché i collegamenti sono attivi, ma è ovvio che più è ordinato e più facile sarà poi eventualmente gestirlo, mantenerlo, capire logicamente quali sono i percorsi. Io normalmente muovo i blocchi in questa maniera in modo che siano tutti incasellati, in modo che a sinistra ci siano tutti gli inject, al centro tutte le elaborazioni, i nodi uguali, tutti incasellati, eccetera, eccetera. Ma qui ognuno ha un po' la propria scuola. Pallino blu, anche se io non ho cambiato nessun tipo di parametro all'interno. Perché? Perché un semplice spostamento per Node-RED è un cambio del flusso. Quindi, cancello il mio deploy, faccio il mio deploy, così almeno ritorno alla situazione originale. E questo è l'interruttore. Se avete domande sugli interruttori, se no andiamo avanti, vediamo il dimmer. Vado avanti. Benissimo, andiamo avanti. Andiamo a vedere.